Lago Basso, agoni in aumento e pochi controlli sull'utilizzo delle reti per la pesca. Sono questi in sintesi i motivi che hanno portato nel corso degli anni alla crisi del coregone nel lago di Como, nei due ceppi Lavarella e Bondella. Questa mattina l'ufficio territoriale regionale di Via Enaudi di Como, l'assessore regionale all'agricoltura, alimentazione e sistemi verdi Fabio Rolfi, assieme al presidente del consiglio regionale Alessandro Fermi e al sottosegretario Fabrizio Turba, ha incontrato le associazioni dei pescatori e gli esperti di fauna lacuale. E proprio secondo il parere degli esperti, la crisi del lavarello risalirebbe al 2012, quando a causa del livello del lago troppo basso sono morte l'80% delle uova deposte. Succede che due anni dopo, praticamente, la deposizione è solo il 10%, perché appunto mancano i pesci di due anni. E quindi si entra in una spirale negativa perché il numero di uova deposte non riesce più a compensare il prelievo di pesca. Cioè i pesci che depongono le uova sono sempre di meno e quindi quello che viene pescato è troppo rispetto al numero di pesci che nascono. Parliamo di un pesce che è un po' il simbolo del lago e ha una forte valenza economica, gastronomica, turistica. Quindi bisogna fare scelte che in qualche modo ne tutelino e ne garantiscono la continuità anche dell'attività di pesca nel futuro. Concretamente sono emesse valutazioni sul potenziamento dell'incubatore di fiume latte che mi interessano. Abbiamo appena stanziato 250.000 euro per l'incubatore lombardi disponibile da giornale a un progetto di potenziamento di fiume latte. Capire con i pescatori si entra a prendere anche misure di contenimento della pesca che non significa vietarla, magari temporane, per aiutarne nel frattempo il rilancio della riproduzione di questo pesce.